... Antico proverbo cinese, ogni giorno un leon si svega il sacco dell'arattore, ogni giorno ... ... ... ... una mano va l'altra e tutte e due parola di confuso un malito come che Dio comanda con le manine muovono le manine, i ginocetti a tempo, tutti quanti insieme un'ora fatta bene un sentimento ma no, questa è una cosa, una passione ma dai, super no, basta ah, se ti si cammina ma dai, ma che mi racconta stai qua ma dai, no, viva i miei unici ma dai, ma comoda che trai che roba mangia un attuale, ho fatto un sacco che c'è ma lo fermo, la città le mani mi racconta, 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 le mani mi racconta c'è proprio schifo mamma mia che roba è brutile ora che vado via non possiamo per me vai come che mio comanda mi tieni le fraide e ce lo vado via dai almeno guarda qua quanta gente che me guarda adio antica compagnia che più che te la trai e più la se slonga antico proverbio cinese chi fa da sé sua mia e doppia e allora si mora per la stanza e cosa per la mogu mochichi tra moglie e marito preferisco la moglie guarda che marito preferisco la moglie e poi sempre con miseria i problemi moglie e poi sempre con miseria canchi e maia rompile male pianeta il culo è risolto parola del confoccio e un'occhi danzare e un'occhi danzare una roba poi le robe tutte insieme tutte insieme con le manine alzai di noceti mobili e monite per ora se ne vedo che i miei saprotti mobili e monite più a riosi più a riosi dai guarda no ecco ma no ma no ma chi se ma chi ne sta ma no ma no ma dai 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 Grazie a tutti. 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 La PETA La SCAOLIA La Profezione La Landennia aiutare un pollo Behosa all'anno Grazie a tutti. Il confuso dice, adesso tocca a noi. Il confuso dice, adesso tocca a noi. Il confuso dice, adesso tocca a noi. Parola di confuso. Parola di confuso. Grazie a tutti.